Uomini abbiamo un problema, questa è l'iniziativa della CGL qui a Pescara nel giorno della festa della donna, una manifestazione simbolica però dall'alto valore, dal grande valore. La CGL di Pescara ha declinato questa giornata che ci tengo a dire non è una festa ma è una giornata di lotta e dietro alla lotta ci sono tante rivendicazioni delle donne ed è una giornata appunto declinata sul tema della violenza della donna perché i dati parlano chiaro, durante la pandemia sono aumentati i casi di violenza perché la violenza è nella famiglia, nei rapporti di coppia, nella cultura, negli stereotipi di genere e quindi noi abbiamo deciso oggi di supportare un appello portato avanti dalla CGL nazionale che è www.abbiamounproblema.it dove chiediamo agli uomini di essere protagonisti di questa giornata perché la violenza è un problema degli uomini non è delle donne e quindi diciamo che questa pandemia ci sta lasciando delle problematiche che appunto rigadono sulle donne perché sono segregate e ghettizzate a casa nello smart working perché sono vessate e prestate dal lavoro domestico, dal lavoro di cura dei loro figli e quindi è proprio nelle mura domestiche che scoppiano e si annidano episodi di violenza e quindi sono gli uomini che devono oggi essere i protagonisti e partecipi di questa battaglia. I dati sono disarmanti e allarmanti, questa pandemia ci consegna che la fragilità del lavoro delle donne è totalmente sotto scacco, tantissime donne hanno dovuto abbandonare il posto di lavoro non solo perché è inconciliabile anche con lo smart working la condizione della donna dentro casa e quella di lavoratrice ma sempre di più perché in realtà tutto quello che sta accadendo in questi giorni, lo vediamo nella regione Abruzzo in particolare nella città di Pescara dove da un mese le scuole sono chiuse, non c'è sostegno alle donne una donna che ha dei bambini piccoli che non può lasciare a casa perché appunto ricordiamo a tutti che bambini piccoli non si possono lasciare a casa da soli, sono costrette spesso in questi giorni a dimettersi dal proprio luogo di lavoro perché non sappiamo quando le scuole riapriranno è chiaro che il tema della sicurezza è fondamentale per tutti ma questo è significato in questi mesi e in quelli che forse addirittura verranno che le donne devono abbandonare il posto di lavoro perché è impossibile conciliare appunto un lavoro in presenza con il fatto di avere i bambini a casa non c'è sostegno perché in questa fase non c'è sostegno, non ci sono sostegni straordinari e anche quando ci sono riducono il salario delle donne del 50% ma il dato più grave e allarmante è che molte donne alla fine di questa pandemia se e quando mai finirà avranno perso il loro luogo di lavoro e su questo noi chiediamo alla politica tutta, locale, nazionale di impegnarsi per riportare invece il lavoro delle donne al centro perché quando le donne lavorano le cose funzionano sempre meglio la violenza soprattutto appunto è legata alla condizione economica delle donne perché le donne molto spesso non possono lasciare la famiglia proprio perché non hanno una condizione di libertà economica per potersi allontanare molto spesso da quello che le tiene che li fa subire la violenza